Da un'idea del maestro Diego Calvetti, produttore e autore noto nel settore musicale italiano, nato e cresciuto a Castelfiorentino, nasce la B. Go Music Academy. L'acronimo è il noto riferimento a Benozzo Gozzoli, che a Castelfiorentino ha un museo dedicato. In questo caso si tratta però di un progetto a cadenza annuale, che prevede percorsi di formazione, incontri, confronti e ascolti tra professionisti del settore discografico musicale e un numero selezionato di partecipanti, rivolto a una nuova generazione di autori di canzoni, artisti e addetti ai lavori nel settore musicale. Primi appuntamenti sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti singoli o costituiti in gruppo che invino minimo due, massimo quattro canzoni interpretate da loro stessi, purché ne siano autori o coautori. La Big Go Music Academy si pone come obiettivo la creazione, nei partecipanti, di un bagaglio di esperienze che li aiuti ad essere aggiornati su cosa realmente succede nel proprio momento storico, a capire il dietro le quinte dei progetti artistici attraverso lo scambio di idee e il confronto con professionisti. Le due giornate di Accademia si concluderanno con la partecipazione di due cantanti che racconteranno la propria esperienza e alterneranno una mezz'ora di esibizione live ad una chiacchierata con i presenti per riportare la narrazione del percorso artistico personale che lo ha portato a raggiungere i risultati di popolarità. Moderatore del confronto Angelo Baiguini, speaker di RTL 102.5. In pratica sarà una full immersion dalla mattina alla sera di incontri e confronti tra i ragazzi che sono aspiranti talenti, aspiranti artisti, autori, cantautori con persone che fanno questo mestiere da una vita. Io credo che questo evento sia veramente di enorme prestigio sia per l'attività del nostro teatro sia per tutta la nostra comunità. Un evento che è in sintonia con un pubblico e quello giovanile e tra l'altro sta riscoprendo una nuova stagione di protagonismo a Castelfrentino grazie alla festa della birra, al podcast musicale, a tutte queste iniziative che partono dai ragazzi e sono per i ragazzi. Siamo molto orgogliosi di ospitare sul nostro palcoscenico i nomi di primordine del mondo della musica contemporanea, dell'intrattenimento e speriamo appunto che questo porti una conoscenza, una ricaduta importante per il nostro teatro su tutto il territorio e non soltanto. L'invio delle domande deve avvenire per email entro il 28 dicembre 2022 a info at bigomusicacademy.it Sono previste due borse di studio da 1.500 euro per i due partecipanti reputati più interessanti dai docenti. I fondi saranno destinati all'acquisto di corsi musicali o di formazione musicale in genere o all'acquisto di strumenti o strumentazione per produrre musica. Un importante contributo per la realizzazione dell'evento è il supporto come main sponsor di SEBAC SPA, azienda leader in Italia, nel noleggio di bagni mobili.